Ebbè sì, dopo aver accompagnato questa tornata elettorale con il buon gusto e il buon senso che spero mi abbiate riconosciuto per un paio di settimane è arrivato il momento di dire e adesso questo Italia dal volto politico trasformato come mai negli ultimi decenni che cosa porterà dopo questa tornata elettorale? Ci chiediamo dunque adesso cosa ci aspetti, quali siano le sfide del nuovo governo e lo facciamo rivolgendo questa e altre domande a un amico ritrovato, a un grande giornalista al collega Federico Guiglia, editorialista e opinionista di Baglia che ben volentieri riospettiamo e che sarà il nostro ospite dopo la sigla che adesso mandiamo. Benvenuto dunque e ben ritrovato caro Federico, davvero di cuore, sentivamo la tua mancanza, ciao. Grazie a te dell'invito, lo faccio molto volentieri. Senti, noi abbiamo avvicinato questa tornata elettorale come meglio abbiamo potuto, con il buon gusto e il buon senso e non di più. Ma adesso tutti noi ci si chiede che cosa capiterà d'ora in avanti e quali sfide soprattutto il governo che sta per nascere si troverà ad affrontare. Partiamo da queste prime domande Federico. Sì, le sfide sono ahimè quelle che ha affrontato e lascia in reddita il governo di Mario Draghi. In particolare tre o quattro sono le principali. L'attuazione del PNRR, anche con l'ultima rata che dovrà arrivare entro l'anno da parte dell'Europa. Il caro gas, questa è una sfida immediata che ci riguarda tutti come è facile constatare dalle nostre bollette. La guerra di Putin in Ucraina, o Ucraina che dir si voglia, che lungi dall'essere in qualche modo dall'andare verso la conclusione rischia addirittura di avere degli sviluppi inquietanti alla luce dei referendum nei posti che lui ha occupato nel paese e il possibile, se non probabile, ritorno del Covid che abbiamo in tutti questi mesi in qualche modo dimenticato ma che ahimè cova sotto la cenere come spiegano i medici. Quindi sono delle sfide colossali, importantissime, sfide che non potranno, per la natura stessa di come sono composte, non potranno vedere governare, come tutto lascia supporre, il centrodestra, a colpi di maggioranza e opposizione, secondo la mia opinione. Nel senso che Giorgia Meloni, se sarà come tutto lascia indicare presidente del Consiglio dopo Mario Draghi e previo incarico del Presidente della Repubblica, dovrà per forza in qualche modo collegarsi alle opposizioni non nel senso di sottostare a dei compromessi o di non far pesare il fatto che se ha vinto deve poter governare sulla base del programma e delle idee che ha esposto, come avviene in qualunque democrazia, ma non potrà non tener conto anche di quello che le opposizioni dicono perché questi problemi sono talmente colossali che non possono essere affrontati con il voto del 51 contro il 49%, quello che sarà poi a conti definitivi fatti. Quindi presumo e ritengo che Giorgia Meloni dovrà con molto buon senso e con molta determinazione, questa è una delle caratteristiche che tutte le riconoscono, comprendere che queste sfide richiedono il maggiore consenso possibile e la maggiore anche chiarezza, cioè con degli indirizzi molto chiari e non compromissori, indirizzi peraltro che Mario Draghi in 17 mesi di navigazioni ha dimostrato di aver saputo dare con grande forza e con grande intuizione. Hai citato le sfide più importanti, ma c'è un battesimo del fuoco, Federico, che è la legge di bilancio, la più complicata, credo, degli ultimi anni e nei numeri e anche nei tempi strettissimi, perché sappiamo che c'è una data entro la quale va varata. La legge di bilancio poi in qualche modo apre il varco al tema fondamentale e importante per tutti noi italiani, che è quello economico. Certo, beh, la legge di bilancio non potrà che essere fatta d'intesa con il governo uscente, se non altro per una questione di tempi, almeno impostata dal punto di vista strutturale. Credo che questo avverrà anche perché questa è la grande caratteristica di Mario Draghi, nel senso che il più grande economista che abbiamo in Italia e che è riconosciuto come Italia a livello planetario addirittura è lui, e sarebbe sciocco non approfittare, diciamo, di questa competenza e di questa autorevolezza, sia pure negli ultimi giorni del suo insediamento. Ritengo che avverrà anche perché molti hanno sottovalutato una cosa che invece a mio parere è importante. È vero che Fratelli d'Italia è stata l'unica o più determinata opposizione al governo di Draghi in tutti questi mesi, ma è anche vero che Giorgia Meloni ha mantenuto sempre un rapporto personale molto civile con Draghi e soprattutto ha votato i provvedimenti e le posizioni più importanti che il governo ha assunto, in particolare in politica estera. È vero. Ucraina, Draghi ha sempre avuto la più forte, ha avuto l'appoggio, diciamo così, nell'interesse nazionale, come spiegava Fratelli d'Italia, di quel partito che non talvolta della stessa Lega, che oscillava almeno nelle dichiarazioni di Salvini, poi si è allineata. Quindi paradossalmente ci sarà, a mio parere, una certa continuità della politica di Draghi, sia in politica estera, in maniera chiarissima e già facilmente prevedibile, ma anche in politica economica, perché anche alcune misure economiche sono state votate o l'opposizione dell'epoca, Fratelli d'Italia, non sia opposta. Quindi diciamo che i problemi del presente, della nostra epoca e quelli che ho citato prima, sono talmente colossali che è impensabile immaginare dei ribaltoni nella strategia politica del prossimo governo. E ritengo che questo avverrà con la massima collaborazione possibile che Draghi lascerà al successore. E la continuità, se non proprio la contiguità, è dimostrata dal fatto che proprio in queste ore il PNRR ha visto centrale anche l'altro obiettivo dentro miliardi, mi pare, siano stati stanziati la famosa seconda rata che si attendeva. Senti Federico, parliamo dopo della... C'è un dato di fatto. Indiscutibilmente sotto questo profilo economico, finanziario, di strategia, Mario Draghi è il numero uno in assoluto. In Italia e persino nel mondo, riconosciuto come tale, è evidente che chi ha vinto le elezioni e quindi che non ha più bisogno di fare campagne elettorali, non ha più bisogno di far vedere nessun tipo di muscoli, sia il primo a dover riconoscere questo anche per approfittare di questa sapienza, di questa competenza, di questa autorevolezza. Quindi vedo anche da questo punto di vista una necessaria e intelligente continuità. Rimaniamo in quest'ambito... Certo, certo. Rimaniamo in quest'ambito economia. Ci sono tutte previsioni al ribasso con un autunno che ci aspetta particolarmente duro. la recessione che arriva. Insomma, la stagione dei sacrifici, anche per il tema dell'energia e del gas, sembra essere all'orizzonte, ma sembrerebbe, dimmi se è un'impressione sbagliata che io ho, non spaventarci più di tanto. È la prima volta che gli italiani si rendono conto della realtà dei fatti, ma non per questo si stanno, mi pare, preoccupando più di tanto. È così, ma io credo che non si stiano preoccupando un po' perché siamo abituati ad affrontare tante novità, diciamo, con molta fantasia e molta creatività e non ci spaventano. E questo è un lato positivo del carattere nazionale. Un po' perché sono anche pronti, come dovrà accadere, per ciò che riguarda il riscaldamento, per usare un tema molto concreto, sono anche pronti ai sacrifici. Non dobbiamo dimenticare che quando due anni fa apparve questa maledetta pandemia e ci dissero che dovevamo chiuderci in casa un mese e all'epoca nessuno sapeva come uscirne, né gli scienziati né tantomeno i politici, abbiamo dimostrato di saperci sacrificare in modo splendido e poi con la campagna vaccinale, poi con tutto ciò che ne è seguito. Quindi se e quando ci spiegheranno che per poter affrontare al meglio il nostro futuro e per poter continuare a sostenere indirettamente l'Ucraina come dovere civico europeo, non solo italiano, saremo costretti a misurare i minuti della doccia, a risparmiare nella benzina, a fare tutto ciò che dovremo fare. Lo faremo senza problemi. Non credo che scenderemo in piazza per protestare di fronte a queste cose che oltretutto non sono dovute certamente a delle cause interne, ma a questa maledetta guerra che viene da fuori e di cui siamo totalmente incolpevoli come italiani. Ecco, questo che viene da fuori, Federico, ed è l'ultimo aspetto che ti chiederei proprio di commentare. Bruxelles attende il governo alla prova europeista. Secondo te il destino che ci vede collocati dove siamo cambierà come nazione europea? È un interrogativo questo che parecchi hanno. È giustificato oppure no, secondo te? A mio parere no, nel senso che possiamo dividere questo aspetto in due parti. La parte cosiddetta ideologica dei timori che in Europa, all'estero, soprattutto in alcuni ambiti ideologicamente di sinistra, come è naturale, il pericolo di un post-fascismo di qualche cosa del genere è veramente comico. Quindi sbarazziamo subito questo argomento che in Italia non esiste. Oltretutto siamo non solo vaccinati storicamente, ma abbiamo delle istituzioni talmente forti e talmente capaci di riequilibrare eventuali tentazioni che non ci saranno, che davvero possiamo stare tranquilli. Basti pensare al ruolo del Quirinale, figuriamoci se un Presidente della Repubblica solo se dovesse sospettare che si sta rischiando di violare qualche cosa della Costituzione, figuriamoci se non si fa sentire e non ricorda a tutti che cosa la Costituzione rappresenta. Quindi sgomberiamo subito il campo ideologico. Il campo invece politico-strategico, che cos'è l'Europa, l'europeismo, l'Europa delle nazioni, che è uno degli slogan della destra, e così via, non credo che cambierà. Nel senso che è vero che la Meloni ha continuato a dire, ma sempre in campagna elettorale, che citando peraltro Papa Voitila, che esistono due Europee, è una di serie A e una di serie B, per così dire, cioè l'Est e l'Ovest, ed è il momento di non avere figli e figliastri all'interno dell'Unione dei 27. Questo diciamo in contraposizione al fatto dell'Europa franco-tedesca, che però è l'Europa a cui l'Italia deve guardare, perché noi siamo un grande paese, se siamo la terza potenza economica europea, se facciamo parte del G7 a livello universale, il nostro sguardo non può che essere quello, noi da quella parte dobbiamo stare, anche per trainare i popoli europei più sfortunati di noi, perché sono stati, peraltro e per fortuna, parecchi anni fa, oppressi dal comunismo e per cercare di aiutarli a progredire nei diritti e in tutto ciò che l'Europa prevede. Quindi anche questa è una paura più, diciamo, teorica che non concreta. Alla fine dei conti, il governo di centrodestra dovrà capire che il nostro destino è con Francia, Germania, con questa Europa, sia pure nell'interesse e per trascinare gli altri. Magari cambieranno un po' i toni, questo sì, soprattutto all'inizio. Immagino che Giorgia Meloni vorrà far sentire che è una italiana con la I maiuscola e che non accetta che i ministri dell'agricoltura italiana neanche partecipino a ciò che l'Europa decide. Da questo punto di vista l'interesse nazionale potrebbe persino beneficiarmi, anzi è auspicabile che ci si ricordi che serve non solo un'Italia più europea, ma anche un'Europa più italiana e che l'Italia, con Meloni o con altri, sempre, non è un problema di oggi, deve fare di tutto per far sentire la propria voce, che è una voce universale, non soltanto nazionale. Benedetto Croce diceva che la storia è sempre contemporanea, vedremo che cosa la storia racconterà di questi nostri anni, però io ti sollecito su un'ultimissima riflessione che sembrerebbe alatere, ma che tu sicuramente riconoscerai non esserlo. Parlo della cultura, parlo dei giovani, fuori completamente dai progetti, dei programmi elettorali, fuori anche dalle liste, che non so se già hai fatto caso, di giovani non ce n'erano proprio questo, è il segno della nostra storia contemporanea. Allora, la conseguenza, quale sarà anche nel prossimo futuro? Scuola, università, ricerca, cultura to cure? Ecco, perché è sempre un tema che viene tralignato lontano e sembra non interessare più di tanto la politica. Io ricordo un Presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi, che fu il primo a definire l'Italia una superpotenza culturale e credo che migliore definizione di questa sia davvero difficile da dare. Ciò nonostante in tutti gli anni, governi dopo governi, tutti hanno sempre detto adesso investiremo nella ricerca, adesso investiremo nella scuola, e mai hanno fatto o hanno sempre fatto molto meno di ciò che è stato promesso. Naturalmente non possiamo essere indovini con ciò che accadrà adesso. Possiamo però, come dire, vedere che Giorgia Meloni ha 45 anni, quindi non è più giovane, ma non è ancora nell'età degli adulti maturi, per così dire, che è stata Ministra della Gioventù in un precedente governo Berlusconi. Quindi tendenzialmente dovrebbe dovrebbe o potrebbe essere più sensibile a questo tema, che è un tema in effetti decisivo e che giustamente sollevi. E quindi che lo è decisivo anche per ciò che riguarda la natalità, anche per ciò che riguarda il fatto che moltissimi dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze non appena sono così ben formati in Italia, ma non trovano immediato lavoro, scappano all'estero. Non siamo più ai cervelli che fuggono, siamo alle generazioni che fuggono. E tutto questo deve trovare una riflessione centrale, non solo nel governo che verrà, ma anche nel Parlamento. A mio parere si dovrebbe addirittura dedicare, non è mai accaduto negli ultimi tempi, una sessione parlamentare, persino una sessione delle Camere riunite, congiunte, di una o due giorni, per discutere di questo tema, quindi di come valorizzare i giovani, la cultura, tutto ciò che l'Italia davvero rappresenta e che sta invece dimenticando due giorni di una seduta del Parlamento, forse potrebbero essere molto utili e verrebbe fuori qualche ricetta, anche se la ricetta principale è quella di investire, soldi, soldi, bisogna investire in questo tema che sembra, come dire, un tema incapace di dare lavoro, di avere dei risvolti immediati e in parte, forse lo sarà pure, ma ha dei risvolti negli anni che sono fondamentali per il nostro Paese, per il ruolo che vogliamo avere e anche per i nostri figli e nipoti che, a cui abbiamo il dovere di consegnare un Paese e una nazione ancora più bella di quella che i nostri genitori hanno dato a noi. Felice di sentirti in piena sintonia con quello che anch'io penso, ancora questo aggiunge un bell'altro mattoncino all'onore, alla felicità di averti ritrovato, Federico, e spero di ritrovarti ancora. È sempre un grande piacere parlare con te e spero che altrettanto sia per i tanti, perché guarda che sono tanti, tanti, tanti quelli che ci seguono. Buon lavoro, ben ritrovato. Io ricambio naturalmente il piacere e più che dirti che sono a disposizione quando vorrai non posso e con molta felicità anche da parte mia. Grazie a te e ai telespettatori, ascoltatori, a quelli che ti seguono. Anch'io vi ringrazio, amici. Vi do appuntamento immancabilmente a domani. Grazie a tutti,